L'ex stratega della Casa Bianca, Steve Bannon, non è più il direttore esecutivo del network statunitense della destra ultraconservatrice, Breitbart News. Ne dà notizia lo stesso CEO, ringraziando quello che viene considerato uno degli uomini chiavi della vittoria di Trump. Figura in discesa, già licenziato dalla Casa Bianca la scorsa estate, ora definitivamente scaricato dai conservatori americani. Questo dopo il libro Fire and Fury, dove Bannon viene citato tra coloro che hanno dubbi sulle capacità mentali del presidente Trump, però le mai rinegate che nonostante le scuse gli sono costate il posto.